no il fumo almeno se non c'ho video eh settimana che cazzo bene bravo bene hai visto? la moto è la moto è la moto non è vero che è lui è la moto metti giù una bella contorta dai questa qui è corta cazzo mi metta col tele se no è corta così allunga allunga ma che del bambino vai dai ecco lì gira dietro i soppresassi sappiamo che si buttava vai allungagliela allungagliela dai mettici un po' di funghetti allungagliela fuori è troppo corta è troppo corta allunga la zona che città è? allunga allunga se la fai lunga è più facile dai dai su lungagliela giù mi sembra il minimo eh il doppio tronco uno è facile dai allora non vuoi ammazzarsi quello è sto concedendo facile eh non avete le moto oggi ma giuro su ma non ha l'abbigliamento sapere che lo facevamo così in fretta lo portavo io speravo che qualcuno arrivasse eh dai ok poi Sassone è quello della morte di qua fai una bella una bella una bella quello l'avevo pensato anch'io dai 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 la fa Samuele sì l'avevo pensato anch'io quella un limite qui per forza limitato a qua facci sognare facci sognare eh c'è la giornata strada and venga no venga voce non venga